A Manchester il mio compagno di cella era un pugile ed era lì per rapina a mano armata. Leggevo un libro che si chiamava The Perfect Murder. Ve lo giuro, sembra una cazzata però è così. A un certo punto mi ha detto, are you gay? Io ovviamente gli ho detto no, assolutamente, e l'ho tranquillizzato. Però il modo migliore secondo me è per rompere il ghiaccio questo qua. Are you gay? In generale. Quel libro che stava leggendo lui ti ha influenzato in qualche modo? Non ci avevo mai pensato. Gli ultimi che mi hanno dato dell'assassino erano quelli di Milizia Cristi. Li ho denunciati? No, no, ma perché? Li hanno perso la causa, la diffamazione, però non sono mai riuscito a recuperare un euro. I responsabili ufficiali sono nullatenenti, come nelle associazioni malavidose. Come nel Vangelo comunque, la vincita. Come nel Vangeloldenaleb.